Ragazzi, quello che temevamo sulle direttive europee green per quanto riguarda le case si sta pian piano avverando, nel senso cominciano le prime paure per i cittadini. C'è un'indagine fatta dal giornale che lascia intendere quale sarà il trend del prossimo futuro e purtroppo è un po' preoccupante perché, ora vi spiego, i proprietari degli immobili temono gli estracosti imposti dalle eurofollie. Uno su due vuole vendere e già questo mette paura. A questo si aggiunge un'indagine fatta da Facile.it che svela che chi cerca di comprare valuta solo edifici già a norma. Questo significa, andando a vedere poi l'articolo, che queste follie green stanno facendo dei veri e propri danni al mercato. E vi spiego. Le follie green, continua il giornale da un articolo di Pasquale Napolitano, spingono gli italiani alla svendita del patrimonio immobiliare. L'entrata in vigore ad aprile scorso delle direttive UE sulla casa green, che prevede l'obbligo di efficientamento energetico delle proprie abitazioni, produce già un primo effetto negativo. 2,5 milioni di italiani hanno deciso di mettere in vendita la propria abitazione, proprio per evitare possibili futuri costi di ristrutturazione. Il dato emerge da un'indagine commissionata da Facile.it, l'aggregatore per la ricerca di mutui. Le famiglie italiane sono spaventate dall'assalto alla casa che l'Unione Europea, io direi Unione Sovietica Europea, con la vecchia maggioranza condizionata dalle ricette del socialista Franz Timmermans, ha lanciato. E' per questa ragione che i popolari europei, nelle trattative per il futuro governo UE, hanno posto il veto sulle forze ambientaliste e green. La direttiva sta imponendo un cambio nelle abitudini degli italiani. Sempre secondo lo studio commissionata da Facile.it, ecco qua, qua arriva il brutto. Chi oggi vuole comprare una casa è spesso condizionato dalla nuova norma. Sentite, sentite. Ci sono quasi 3 milioni di italiani in cerca di un immobile che hanno cambiato i propri criteri di selezione limitando la ricerca alle sole abitazioni efficienti non toccate dalla direttiva UE. Che significa? Significa che se tu non metti a norma, secondo le direttive UE, la tua casa, in poche parole il mercato non la vuole. Perché? Perché il mercato ha paura poi di dover spenne altri soldi sopra. Quindi che succede tu? Per poter venne a casa tua, se te la vuoi venne, devi abbassare il prezzo. Perché così che fa? Il nuovo acquirente dice, vabbè, questa me costa di meno, costandomi di meno ci aggiungo altri soldi sopra, a fine me la sistemo come vuole l'Europa. Avete capito verso cosa stiamo andando con questi pseudoambientalisti? Continua poi l'articolo del giornale, una tendenza diffusa maggiormente nelle regioni del nord-ovest, dove la percentuale arriva al 60%, a fronte di una media nazionale pari al 50%. Io poi, quando sento sti nuovi eurodeputati green che parlano di sta roba, ieri sera sentivo la Scuderi, e Pecoraro Scagno. Ci date voi i soldi per istruttura a casa? Me li dai tu i soldi che io perdo in un'ipotetica vendita a ribasso? Ma vi sembra normale? Ma che volete che gli italiani scappano veramente da sta nazione? Ma volete tutti quanti se la vendono a testa la casa prima che crolla e se ne fanno? Ma che vi dice a voi il cervello? Così rimanete solo voi, magari chiamati cinesi e se vengono a comprare tutto? Perché poi voi dite sempre che è colpa dell'uomo, del sto cambiamento climatico, che dobbiamo correre ai ripari. Però non dite mai niente contro la Cina, non dite mai nulla che la Cina consuma carbone come se non c'è fosse un domani. Questo non lo dite mai. Dite sempre che è colpa degli italiani, degli europei, che ci dobbiamo adeguare queste cose. Però verso la Cina non dite mai niente. Continua poi l'articolo. Basso il numero, appena 800 mila, degli italiani invece che stanno appositamente cercando di comprare una casa con basse prestazioni energetiche nella speranza di risparmiare sul prezzo d'acquisto dinamica, quello che dicevo prima, no? Dinamica questa presente nelle regioni del centro Italia, 18% a fronte di una media nazionale pari al 13%. In Italia, secondo le prime stime, la direttiva UE sulle case green potrebbe riguardare potenzialmente quasi 5 milioni di immobili residenziali, con spese di ristrutturazione variabili tra i 20 e i 55 mila euro a famiglia. Ma questi sordi che ci dà? Ci dà Scuderi, ci dà Bonelli, ci dà Fratoianni, ci dà Pecola Roscagno? Chi ci dà questi sordi? Io questo voglio capire. Tra questi 20 e i 55 mila euro, che favo? Li covamo a mattina, si mettevamo là? Ehi, ecco i sordi, ecco i sordi, escono fuori da sotto i pio, tiè. Così se va, come funziona? C'è una ricetta per fare questo? Ditecela, che li fabbrichiamo i sordi, se. Poi sento di dalle Scuderi ieri sera alle D4, perché chi nega, chi ci va contro, è in malafede. A me mi sembra che sei te in malafede, perché non sento mai di una parola contro la Cina da parte tua. Questo l'ho detto io, e me ne assumo in responsabilità. Cifre importanti, che naturalmente fanno paura a molti italiani. Giustamente, chi ci dà i sordi? Secondo l'indagine, tra chi è conoscenza della norma, il 43% dichiara di essere spaventato dalla possibilità di dover far fronte a costi così importanti per ristrutturare casa. E non sorprende vedere come in molti stiano pensando di vendere la propria abitazione piuttosto che mettere mano al portafogli. È logico, una persona dei 70 anni dice, io devo dire a fuori 50.000 euro, io mi avendo casa, invece di vendere a 200, mi avendo a 120, senti vado in affitto finché campo, oppure sai che c'è uno sveglio, un anziano sveglio, pia, pia gli sordi, e se ne va, se ne va, e va in paesi dove la tassazione è più bassa, perché così poi questo voi volete, perché se fate questo, questo voi volete, che la gente se ne va. L'obiettivo della direttiva è quello di arrivare al 2050, arrivaccia al 2050, nei paesi UE, a un parco immobiliare totalmente decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, però a Cina non si dice mai niente, entro il 2026 tutti gli stati membri devono presentare il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, indicando strategie e tempistiche. Continuo con l'articolo, dal 31 dicembre 2026 partirà l'obbligo di installare impianti solari su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali che presentano una superficie superiore a 250 metri quadri, ma il passaggio chiave che potrebbe avere effetti devastanti per l'Italia è il 31 dicembre 2028, quando diventerà obbligatorio installare impianti solari su tutti gli edifici esistenti con una superficie superiore ai 750 metri quadri. Ci rendiamo conto sempre obblighi, 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 dici io però vivo in un paradiso, funziona tutto, c'è la sicurezza, il lavoro è ben pagato, non c'è sta stress, viviamo in città dove tutte le famose città dei 15 minuti, che da una parte all'altra della città, no, non viviamo neanche in tutto questo, viviamo in una giungla, però dobbiamo sempre rispettare sti obblighi noi, come se loro ci stanno a dare loro, a me mi sembra che ci stanno a dare veramente il fango. Il governo Medoni si sta muovendo, trovando sponda nel PPE per modificare gli obblighi e rinviare l'applicazione delle direttive. Su questa trattativa si gioca una partita importante, anche per la futura commissione UE. In conclusione, dico che a mio avviso non c'è la totale trasparenza da parte dei partiti green, non dicono assolutamente come stanno le cose, perché accusano sempre l'uomo, accusano soprattutto l'Europa, accusano soprattutto l'Italia, e non sento mai una parola che va verso la Cina, che è il più grande consumatore de carbone, loro parlano di decarbonizzazione dell'Italia, basta col fossile, però non dicono niente di quelle parti in oriente, che sono i paesi che consumano più di tutti al mondo, inquinano più di tutti al mondo, India e Cina, e noi dobbiamo stare zitti a bozzare, noi europei dobbiamo stare zitti a bozzare sempre, sempre buoni, direttive, dobbiamo salvarci, dobbiamo salvare il mondo, pensate, noi siamo la generazione più importante di tutti, siamo quella che deve salvare il mondo, vi rendete conto che culo che ci hanno avuto?